Freschezza, geometria ed elementi di prodotto, le keyword per questo scatto. Una bottiglia di succo ace, Santal, è il nostro soggetto. Non ricordo bene, arancia, limone, carota? Io sono sempre Luca, imprenditore digitale, che dà vita ad idee fuori dagli schemi per il business marketing. Per aziende che aspirano ad essere un po' di più delle loro concorrenti. Fondatore anche di questo delicato e simpatico occhiello di serratura, che ci porta dietro alle quinte di qualche lavoro digital. Langavaz. Sto pensando degli effetti tra luce, ombra e magari un bel gioco d'acqua avvolgente. Su dai, battiamo insieme! Sto pensando degli effetti tra luce, ombra e magari un bel gioco, ombra e magari un bel gioco, ombra e magari un bel gioco, ombra e magari un bel gioco. Sto pensando degli effetti tra luce, ombra e magari un bel gioco, ombra e magari un bel gioco. Sto pensando degli effetti tra luce, ombra e magari un bel gioco. Sto pensando degli effetti tra luce, ombra e magari un bel gioco.